Dai Cobas pubblico impiego giunge una critica ed un allarme sulle decisioni del Gemelli Molise. La struttura intende ricorrere alla cassa integrazione nonostante la fase 2 di uscita dall'emergenza pandemica. La questione è delicata, molto delicata, perché racconta di una imminente decisione, frutto di una contrattazione sindacale che ha mancato ogni accordo, da parte della Gemelli Molise, l'ultima denominazione che ha attuato la ex cattolica negli ambiti delle varie sue trasformazioni e delle varie sigle sindacali, tra le quali il Cobas pubblico impiego, che detiene il maggior numero di iscritti tra medici, infermieri ed operatori nella struttura di Campobasso. Dal Cobas affermano letteralmente che passata l'emergenza coronavirus e all'imminente inizio della fase 2 il Gemelli Molise fa ricorso al fondo di integrazione salariale, ossia la cassa integrazione della sanità privata. Tutto mentre intanto ha riscosso il 95% del budget regionale per le prestazioni in conto al servizio sanitario regionale. Sembra una notizia qualsiasi, un qualunque percorso aziendale, ma è al contrario una nota di forte riflessione, perché, come scrivono dai Cobas, con l'inizio della fase 2 e in piena riorganizzazione con le norme di sicurezza da adeguare alla convivenza con il virus, con la popolazione molisana, che si è vista sospesa le prestazioni sanitarie sia da parte dell'ospedale Cardarelli che da quella privata, mandare a casa, dopo 58 giorni di lockdown, il personale sanitario addetto ai servizi specialistici e ambulatoriali è ingiustificabile. E' questa una operazione che appare puramente speculativa ai danni dei lavoratori e dei contribuenti e non in ultimo della popolazione molisana stessa, soprattutto se si pensa che il Gemelli Molise ha attrezzato un reparto Covid con reclutamento di infermieri, tecnici, operatori, sociosanitari e tutti i profili impegnati in questa emergenza, sottraendoli alla gestione di patologie non Covid. Per il sindacato, al contrario, a circa due mesi dal blocco quasi totale delle prestazioni sanitarie, andrebbe rafforzato il personale della struttura per supportare ed evadere quelle prestazioni che sono passate in seguito piano rispetto alla criticità da Covid. Ed è per questo che annunciano una forte battaglia, chiedendo alla Regione Molise che finanzia la sanità privata accreditata, di intervenire senza indugio per bloccare il provvedimento.